Musica Ciao sono Federica, sono insegnante di danze caraibiche Ciao a tutti, mi chiamo Mirko e sono insegnante di danze caraibiche Ciao, sono Sara e sono insegnante di danze caraibiche Questa sera ci ritroviamo a Saronno, è la nostra seconda serata al Mago del Caffè e faremo una serata latina Da settembre ci troverete qua tutti i giovedì per quanto riguarda i corsi di salsa e baciata Faremo due prove gratuite il 6 e il 13 settembre, vi aspettiamo E adesso vi faremo vedere un po' di riprese della serata di animazione Buona visione e buon divertimento con le nostre lezioni di danze caraibiche Vi aspettiamo a settembre Buona visione e buon divertimento con le nostre lezioni di danze caraibiche Buona visione e buon divertimento con le nostre lezioni di danze caraibiche Buona visione e buon divertimento con le nostre lezioni di danze caraibiche Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.